e i mecenati e i mecenati dove sono andati a finire i mecenati dove sono andati a finire coloro i quali un tempo, tanto e tanto tempo fa, finanziavano un artista, uno scrittore, uno scultore per produrre qualcosa di bello. Eppure quei mecenati hanno avuto il piacere di far nascere davvero dei capolavori e hanno avuto il piacere di regalare a questo paese un patrimonio artistico e culturale che oggi come oggi fa la differenza dell'Italia nel mondo. Oggi come oggi però, pur essendoci molti personaggi con grandi disponibilità economiche nel nostro paese, il mecenatismo è scomparso ed è scomparso appunto questo supporto che il mondo culturale italiano, artistico e culturale italiano aveva tanto, troppo tempo fa e che però ha prodotto grandi, grandi risultati. Che bello se rinascesse nel 2016 il mecenatismo. Grazie per la visione!